Ciao a tutti, buongiorno a tutti da Francesco Nano di scuolasuono.it Questa è una nuova intervista dedicata a tutti gli aspiranti tecnici del suono, amici del mio sito di scuolasuono.it Abbiamo in linea con noi via Skype un fonico che mi pare la sappia davvero molto lunga La conversazione si prospetta molto interessante Ed è con grande piacere che vi presento una persona che con me per il momento si è rivelata gentilissima Poi nel futuro, per il futuro non posso garantire, ma per il momento è stata una preziosissima conoscenza Il futuro diventerà terribile E diventerà cattivissimo Ecco a voi, vi presento Matteo Cifelli Ciao Matteo Ciao a tutti Allora Matteo, in questa chiacchierata così tanto desiderata da me Il diverso tempo che ti sto dietro, poi non ci siamo incrociati con le telefonate, tu stavi lavorando Succede sempre così perché di fonici ne ho intervistati parecchi Viva Dio tutti quanti stanno lavorando in questo momento, almeno i più grossi Pare di no, ma anche durante la crisi i più grossi lavorano, i più bravi soprattutto Allora Quello che è cambiato molto, mi scusa se ti interrompo, sono le condizioni di lavoro negli ultimi anni Perché si lavora tanto per guadagnare di meno, questo è forse un po' lo svantaggio che succede ultimamente Per cui tendi a dover prendere più lavori per cercare di avere lo stesso risultato in termini economico Per essere proprio molto più pratico, i budget sono calati, ma questo lo sappiamo tutti, è inutile parlarne Già, però mi pare che tu alle tue spalle abbia una struttura molto interessante Con diverse regie, diverse sale di ripresa Adesso ce ne parlerai, però intanto se vuoi raccontarci un po' di te Di com'è stato il tuo esordio nel mondo dell'audio Di come si è evoluta la tua professionalità nel corso degli anni Ci racconti un po' insomma quelle che sono state le tappe più interessanti della tua vita Magari a grandi linee senza fare un abbio di due ore Insomma per capire con chi abbiamo a che fare Sì, ma guarda io lavoro ormai, questo è il ventiduesimo anno che lavoro Perché ho iniziato molto presto, ho finito il liceo Ho iniziato, mio papà mi ha trasmesso la passione dell'alta fedeltà E per cui ho già, e ha fatto l'errore di regalarmi a sei anni un registratore a bobine della Grundi Con il quale già facevo i primi esperimenti E comunque poi a 17 ho iniziato a lavorare in questo storico locale di Milano Il Magia si chiamava dove c'erano i migliori live acts della città Un anno lì, dopodiché ho iniziato a lavorare con la Milano Music Service come tecnico di palco Subito ho fatto dei buoni tour europei con zucchero, milva eccetera eccetera Poi nel 91-92 ho iniziato l'avventura in studio E sono diventato fonico residente della Psyco Che poi era uno degli studi più importanti lì in Italia, il tempo E lì mi sono formato veramente tecnicamente Perché era uno studio dove si facevano i dischi di Elio e le superattese Come ti dicevo prima, che era detto proprio internos Cioè quando hai fatto un disco di Elio hai fatto tutto nella vita Perché è la verità, perché lavori a livelli molto elevati Sia tecnicamente che musicalmente Nel 2000 ho preso il volo come freelance Nel senso che ero stanco di essere fonico residente di uno studio E da lì poi ho iniziato la carriera di produttore Unita a quella di Tecnicolo e Suono Che alterno con quella di Fonico Live Che ho sempre fatto Uno perché mi piace viaggiare E questo ti dà la possibilità Per me è stato semplice Perché gli artisti mi hanno sempre chiesto Dopo aver fatto il disco con loro Di venire in tour con loro E mi è successo sia in Italia Che poi ultimamente in Inghilterra Dove sto lavorando moltissimo Sia con Tom Jones Che adesso ho iniziato a lavorare con i Genesis Con il gruppo Genesis E ho appena finito il tour di Mike and the Mechanics Che stanno facendo una Una re-entrée dopo dieci anni di silenzio Con una nuova formazione E niente, sono qua e faccio questo Alterno all'attività di produttore Quindi dischi E a quella di Fonico Live Sostanzialmente adesso Il sogno di ogni aspirante fonico Praticamente Io però premessa Non mi sento arrivato Cioè ho sempre obiettivi Bisogna sempre avere obiettivi Adesso non dico che vorrei un giorno missare madonna Però spero mi possa succedere Insomma Bisogna puntare sempre Lavorare sempre È l'unico modo per andare avanti Insomma Il consiglio che do a tutti Perché è un lavoro durissimo E lo fai solo se Se insisti Perché se no Vai a fare altro Senti Dall'alto della tua esperienza Noi vorremmo sapere da te una cosa Secondo te Il giovane Il ragazzo La persona che si approccia Per la prima volta Al mondo dell'audio Oggi In Italia A parte diciamo Tutte le considerazioni Peggiori che si possono fare La serie si deve suicidare O cose del genere Ma nella pratica Secondo te Come ci si deve muovere Per iniziare Oggi come oggi La carriera del tecnico Del suono E del produttore A livello Diciamo elevato Per arrivare almeno A raggiungere un livello elevato Quali sono i passi Secondo te Da seguire Allora Mentre una volta Tu lavoravi per uno studio Per cui Ti veniva in studio Avevi la possibilità Di lavorare con zucchero Poi il mese dopo Lavoravi con baglioni Adesso questa cosa Non esiste più Perché gli studi Sono spariti E comunque Gli artisti Hanno tutti Il loro studio personale Bene o male Il segreto Cioè Il trucco Sarebbe quello Di riuscire Ad entrare In un circuito Di lavorare Almeno quello Che ha funzionato Con me È stato Il rapporto Diretto Con l'artista Che è difficile Da creare Il consiglio Pratico Che do È quello Di Prima di tutto Guardarsi Prima di tutto Non limitarsi A quella che è L'attività Di studio O live A seconda di quello Che si vuole fare Ma di cercare Di fare un po' tutto Cioè Al giorno d'oggi Ci sono tante cose Da fare nell'audio E sono tutte Interessanti Anche Io sono stato Non so Vedo anche Le realtà Televisive Come quelle Di Sky Possono avere Delle Che potrebbero In apparenza Sembare Noiose Possono in realtà Poi avere Dei risvolti Positivi Interessanti La postproduzione È una cosa Che Continua a crescere Quello che è Il mastering Adesso sta diventando Veramente una cosa Che a parte Fanno tutti E troppi Però È una È una parte Interessante Il Bisogna Essere bravi A A entrare In realtà Di lavoro E poi Farsi largo Imparare Farsi largo Per cui Lavorare In studi A fianco Di produttori O fare Da assistenti A tecnici Del suono Più Più Conosciuti Questi sono i modi Per incominciare Io devo essere Sincero Nonostante so Che tu abbia Cioè tu stia Conducendo Un discorso Educativo Sono sempre Un po' scettico Riguardo All'insegnare Almeno Nella maniera Tradizionale Questo lavoro Per questo qui È un lavoro Che si impara Sul campo Pratico Servono Sì le nozioni Teoriche Ma è un lavoro Dove devi In prima persona Sperimentare Fare E sviluppare Il tuo stile Perché Una voce Si può riprendere Con mille microfoni Si può riprendere Con mille Preamplificatori In mille Stanze diverse E alla fine Dopo anni Ti rendi conto Che non è Il microfono Il preamplificatore Ma è Il cantante Perché Questo è una cosa Che in Italia È un concetto Che non è molto chiaro Perché Siamo un paese Di tecnici Dove tutti parlano Di beat Frequenze di campionamento Di preamplificatori E poi nessuno Nessuno pensa Quella che è la performance Che è la cosa più importante E queste sono cose Che impari Col tempo Per cui Chi vuole iniziare A fare questo lavoro Deve mettersi In un'ottica Di fare Più possibile Cose differenziate Esperienza Anche perché È importantissimo Capire bene A cosa si è portati Perché c'è Chi è più portato Alla registrazione Che al messaggio Ma C'è chi è più portato Alla produzione Io Io so cosa faccio bene E so cosa faccio male Non ti dico cosa faccio male Ma Non sono per esempio Non lo nascondo Non sono Un bravo registratore Non sono una persona Che registra bene Perché non ho Più pazienza Di stare in studio Non sopporto più Quella che è magari Una scarsa performance Per cui Se mi trovo musicista Che non suona bene Mi voglio immediatamente Sparare Vedo per esempio Il mio assistente Che è un ragazzo Che sta crescendo Alla velocità della luce Lui è molto Appassionato Di registrazione Gli piace Scegliere il microfono Gli piace Sperimentare Cosa che io Per esempio Mi annoia Tremendamente In fase di registrazione E quindi Il consiglio è sempre Quello di capire bene Cosa si è portati A fare meglio Comunque affiancarsi Diciamo a una struttura E a delle persone Che già lavorano Certo La domanda Sorge spontanea A questo punto È chiaro che Il mio corso Come tanti altri corsi Nasce con l'idea Di avvicinare Il musicista La persona che è lontana Dallo studio di registrazione Allo studio di registrazione Perché in definitiva Molto spesso È difficile Riuscire ad entrare In studio di registrazione Come assistente Cioè il sogno di molti Ma se un ragazzo Venisse alla tua porta Venisse a bussarti A chiederti ospitalità Anche gratuitamente Per imparare il mestiere Tu saresti disponibile Ad aprire Questo spiraglio Questa porta Oppure Diciamo Ce ne sono già talmente tanti Che ormai Non sapresti più Che fartene Di un assistente in più Guarda La verità È che io ricevo Ricevo molti curriculum Nonostante il mio studio Non sia pubblicizzato Perché non è uno studio Conto terzi Il mio studio È il mio studio Privato Personale Per i miei lavori Ricevo molti curriculum Il Il Andrea Andrea Cataldo Il mio assistente È arrivato qui È stato insistente Bisogna essere insistenti Perché Quello che si limita A mandare curriculum E poi sparisce È uno che spara Nel mucchio Andrea L'ho preso Perché mi è stato dietro Io non ho tempo Per cui Un curriculum Lo leggo Sì è interessante E poi lo metto Nel cassetto Una persona Deve Bisogna cercare Di infilarsi Per cui Cercare di instaurare Un rapporto Un rapporto diretto È importante Questo E poi Una persona Vuole iniziare A fare l'assistente Deve Deve capire Bene i ruoli Deve capire Che all'inizio Devi Sistemare lo studio E devi E devi fare Lavori Magari Meno 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 gratificanti C'è tutta una 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 procedura Da seguire Bisogna imparare Soprattutto Il comportamento Per me È primario Il comportamento Per esempio Più che il curriculum Diciamo Il comportamento È fondamentale Cioè Io non potrei mai Avere un assistente In studio O una persona Che lavora con me Che non abbia Che non sappia Parlare Con il cliente Che non sappia Instaurare un rapporto Con il cliente Che Che sia chiuso Mentalmente Perché Una cosa classica Dei fonici È quella di Imporre Il proprio Stile Il proprio gusto Invece Il fonico Deve essere Il fonico È al servizio Del cliente E dell'artista E E anche Anche Tony Maserati Se arrivano I Black Eyed Peas Gli dico Guarda Non mi piace Il suono della cassa La cambia Non è che dice No io faccio La cassa così E la tieni così Il cliente Ha sempre ragione L'artista È davanti a tutto Noi siamo Al servizio Dell'artista E questa è una cosa Che Se non si impara Non si va avanti Perché E questo è un lavoro Dove è inutile Imporre la propria idea Nessuno lo fa Nessuno dei grandi Impone la propria idea Anche Proprio gli artisti È un lavoro Fatto di Mediazione È forse uno dei lavori Più Dove si media Di più In maniera migliore Ecco Anzi che Nella politica Perché Perché fare un disco È Fare un disco È una cosa Molto complessa A livello umano Cioè Tu Tu senti il disco Di Giovanotti Dici Ah che schifo di suono Il fonico Non mi piace Ma Che ne sai Di quello che c'è dietro Che ne sai Del produttore Che ne sai Dell'artista Perché sai Molto spesso L'artista È l'artefice Del proprio disco Puoi chiamare Anche Dio A mixare un disco Ma se il disco Suona male Perché è mal registrato E i pezzi Sono brutti E le idee Sono quello che sono Non ci niente da fare Come dicono in Inghilterra Shit in Shit out Devo tradurre Poi è chiaro Chiarissimo il concetto Beh quindi Diciamo Ritornando all'esempio pratico Se un domani Che Dopo che qualcuno Ha guardato la tua intervista Ti ha ascoltato dire queste cose Si presentasse nel tuo studio A chiedere Insistentemente Aiuto per Lavorare Come assistente Tu Gli dirò che Ho già un assistente E però Che se ha la costanza Di Cioè se mi fa vedere Se mi fa vedere Che io Ho un motivo Per lavorare con lui Sicuramente può nascere Una collaborazione Diciamo che lo prendi In considerazione Ecco Quando vedo persone in gamba Le prendo in considerazione Ecco Sempre E in qualche modo Cerco di Di collaborare Questa È un'ottima notizia Perché Di solito Le realtà in cui Mi sono trovato io Mi hanno sempre Fatto pensare Il contrario Cioè che non ci fosse Più posto in assoluto Per l'assistente E per far crescere Gli studi Anche a livello umano Questo probabilmente È stato una Una carenza Un deficit Penso dal punto di vista Umano Delle persone che ho Incontrato fino a questo momento Non tutti Ovviamente Poi ho parlato anche con Moltissimi altri Fonici importanti Del calibro tuo Insomma Che mi confermano Di avere Insomma Personale Che stanno coltivando Che stanno tirando su Quasi da zero E che stanno facendo Un investimento Sul loro studio Sul loro futuro Insomma Un investimento Anche in termini umani Ecco Sì perché Poi sai La cosa classica L'assistente Tu lo crei Lo formi Gli insegni le cose Poi a un certo punto È normale Che lui prenda Se ne vada Perché Perché come L'abbiamo fatto noi A un certo punto Senti bisogno Di cambiare Di crescere È normale Allora a quel punto Ne prendi un altro Sperando Ma è come Voglio dire È una cosa Umana Anzi Io quando vedo Quelle realtà Dove vedo Persone che lavorano Per vent'anni Nello stesso posto Io scappo Cioè Sono automaticamente Diffidente Da quelle figure Perché 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 troverò figure limitate Con poca esperienza E questo è un lavoro Dove l'esperienza È tutto Io una volta Mi sono addirittura Sentito rispondere Da uno studio prestigioso Di cui neanche Non farò il nome Preferisco Non prenderti Come assistente Perché dopo Impari Il mio modo Di lavorare I miei trucchi Del mestiere Poi te ne vai E li utilizzi Da altre parti Beh sì Ma io voglio dire Io Sono a un certo livello Professionale Ma prima di Prima che Ma uno può imparare E qualizzare Come me Può imparare Può imparare A usare con persone Come lo uso io Sempre che io Abbia un modo E attenzione Perché Io per esempio Cambio molto Il mio modo di lavorare A seconda Ma poi Il punto Non è Saper usare le macchine O saper schiarire la voce Guarda che Emissare È una roba Complicatissima Cioè È una roba Dove tu devi avere In me in testa Un suono Devi avere in testa Un suono Devi avere un'idea E queste cose qua Le impari dopo anni Di saccagnate Di botte Di 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 Perdere Clienti Come tutti Ho perso Dei clienti Oppure Dei clienti Hanno preferito Lavorare con altri Ma Ma Cioè Va bene Ma lo accetto D'altronde Ogni nuovo cliente Che prendiamo È perché Ce n'è uno Che se n'è andato Non è che È così È così Ci sei Francesco? Eccoti Mi senti? Sì Ti sento Ok Allora Non ho perso Nessuna parola Delle tue Solamente Mi si è piantato Skype Quindi È andato via Il tuo audio Ok Ricominciamo da qua Dunque Mi dicevi prima Che Il tuo studio È molto articolato Ci sono diverse Regie Diverse sale Di ripresa Vuoi darci Un po' Una panoramica Di che cosa succede All'interno del tuo studio Di come è organizzato E soprattutto Anche di come portate avanti Il lavoro In generale Sì Il mio studio È una struttura Dove ci sono Cinque control room E due sale di ripresa Sono tutte stanze piccole Insonorizzate La mia è la più grande Ma non ti aspettare Nulla di Nulla di gigantesco In realtà È una stanza Di quattro metri Per No Forse Cinque per quattro Insomma Quindici Venti metri quadri Piena di roba Perché non so più Dove mettere La roba Gira un po' La webcam Che diamo un'occhiata Così ti faccio vedersi Allora Yes Allora vedo Il sistema Genelec Di cui parlavamo Prima Lì qua c'è un compressore Il compressore di Danca Che tu hai intervistato Ah Eccolo là Questo è il numero uno È il numero uno La macchina numero uno Il numero uno dei compressori Addirittura Sì 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 Il mio compressore su master Preferito Lì c'è Tutta la Rack for tools Un po' di outboard Qua sotto Non si vede C'è tutto il rack Della roba digitale Convertitori Blah 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 Divanetto Beh dai Qua tutti Molto carina Un po' Un po' Un po' incasinato Però E le altre regie Di chi sono? Ce sono sempre due Oppure Dunque In questo momento C'è In una regia C'è un gruppo Di Un'associazione Di musicisti Classici Poi In un'altra C'è Ci sono È condivisa Da Petrini Chico Palmosi Che è il produttore Modà E Nicolo Fragile Che non so Sicuramente Conosce anche loro E poi C'è Beppe Stanco In fondo Che è un cantautore Produttore italiano Basta Ma La struttura È tua E tu La noleggi Diciamo Sì Io sono in affitto È di Di un editore Di un editore Sì Chiamato Spoma Noi Siamo qua dentro A pagamento E le due sale Di ripresa Sono poi Comunicanti Tra loro Tutto è cablato Tra di noi Per cui Anche se in realtà Non Non lo usiamo Il cablaggio È tutto Cablato Ognuno sta A casa sua Dai diciamo Sì Siamo amici Ma poi Non è che si Lavora mai Su Anche perché Il mio studio È privato Come dicevo prima Non faccio Conto terzi Perché Perché Non ne ho bisogno Poi comunque Di Trovare Chi paga Chi paga Lo studio Per quello che vale È impossibile Quindi Preferisco Non farlo A meno che Non sia Un mio cliente Allora Gli dico Vieni qua Nel mio studio Che facciamo Certo Però tu Diciamo Sei sia Tecnico Del suono Che Produttore Insomma Tu fai Il produttore Sì Quello che In Inghilterra Si dice Producer Engineer Fonico Produttore Le due Mansioni Si mischiano Cioè All'interno Di un Lavoro Durante la Realizzazione Di un disco Quanto Di fonico E quanto Di produttore Ci metti Ci sono Delle fasi Alterne Oppure Il disco Lo segui Interamente Dall'inizio Alla fine Con un approccio Sia da produttore Che da fonico Come lavori A livello Di workflow O mentale Insomma Se hai un metodo Mentalmente Sono sempre Più produttore Nel senso che Mi sto Sempre più Staccando Dalla parte Tecnica E più Concentrando Su quella Che è la parte Di gestione Realizzazione Ma io So fare un po' Tutto Adesso Per esempio Sto lavorando Su un pezzo Di Lo conosci Pier Davide Carone Un ragazzo Che esce da amici Guarda Non ho mai seguito Amici Perdonami E' uno di questi Giovani Promettenti cantautori E' anche bravino E sta facendo Sto producendo Il disco Di Rio Il cartone animato Che hai visto Sicuramente Nei cinema Anche per campioni Adesso Adesso non mi vengono In mente Tutti Però sono artisti Di questo livello E per cui Io qua Su questo disco Faccio un po' Tutto Produco Adesso gli stavo Programmando Le ritmiche Per cui Adesso non dico Che arrangio Perché è una parola Offensiva Per il vero Arrangiatore Però insomma Se c'è da mettere Un basso Lo metto Se c'è da suonare Qualcosa Lo faccio E Registro Mixo Faccio un po' Tutto Anche se le cose Più Tra virgolette Tecniche Le faccio fare Sempre a mio esistente Le voci L'editing Preferisco non farlo io Perché mi esaurisco Mi esaurisco Il lavoro di editing È effettivamente Molto impegnativo Insomma Sì E poi Anche può diventare Un po' noioso Dopo un po' Di anni Che uno lo fa Sì Non mi diverto Poi comunque Quando mixo In generale Io metto mani Su tutto Per cui Corrego Sempre Il timing O delle cose Di intonazione Cioè In ogni caso Rivedo sempre tutto E quindi Questo è il mio approccio Professionale Insomma Non sono Specifico Su una cosa Va bene Allora Matteo Intanto ti ringraziamo Per questa prima parte Salutiamo gli amici Di Scuola Suono Che per il momento Ci hanno seguito Adesso Ci concentriamo Più negli aspetti Tecnici Dedicati A tutti coloro Che stanno seguendo Effettivamente Il corso Per tecnico Del suono Va bene Perfetto Ciao a tutti Ciao a tutti